Si è provato tutto, si è provato di tutto, abbiamo fatto un bello shopping, ha lo speso 8.000 euro, non è vero, non è vero, non è vero, e poi ringraziamo anche Renzo e Rosanna, grazie mille, grazie a tutti, grazie a voi per averci fatto venire qui, fatemi un applauso, vi prego, grazie ragazzi, Allora ragazzi, io e noi adesso vi cantiamo questa canzone, e io vorrei mandare questo messaggio, io so che voi siete d'accordo con me, il messaggio è questo, sapete si dice che uno su mille ce la fa, ma ricordatevi che ognuno di voi è quell'uno, per voi uno su mille, tutti insieme, grazie a tutti per essere venuti, Grazie a tutti Sì, dopo c'è la vita, tu non ti senti dentro, ma tu non ti senti l'idea Luce d'amore e dì, ma tu ti puoi venire qua, tu aspetterà E quando ti porto, te la fermo, non pensi a te, ma tu non ti aiuto Nemmeno tu non hai mai sentito Tu sordo e di oro, tu non ti aiuto Tu sordo e di oro, tu non ti aiuto E se te farà non strisciare E finirà morta e finito, ma tu ti credi E finirà morta e finito, ma tu non ti aiuto E finirà morta e finito, ma tu non ti aiuto E finirà morta e finito, ma tu non ti aiuto E finirà morta e finito, ma tu non ti aiuto grazie 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 buon grazie e salita il nostro presentatore e il nostro è acceso le disco Angela e i signori Roberta, Francesco, Cassandra e Cassolino! Cassandra, Cassolino, 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 la prima volta la SEMPION! Ciao ragazzi, grazie di cuore! Grazie, grazie a tutti! Grazie a tutti!